Qui Diego Dabber21, salve a tutti, in questo nuovo video ecco la mia personalissima top 5 sui migliori film in tema sport. Spero che questo video vi piaccia, un cilber ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber21, da Biz The World e il mio motto, buona visione a tutti, spero che il video vi piaccia, perché si va a incominciare, scrivetemi naturalmente la vostra personalissima opinione nei commenti, perché come ben sapete accetto qualsiasi opinione differente, basta che non sia offensiva, mi raccomando su questo, va bene? Benissimo, vai con la top 5! Grazie a tutti! 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 E dunque questa era la mia personalissima top 5 sui migliori film in tema sport, spero che questo video vi sia piaciuto, un cilber ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber21, da Biz The World e il mio motto e ci vediamo a prestissimo con tantissimi nuovi video, ciao fate i bravi e statemi bene mi raccomando!